Ciao ragazzi, 16 aprile 1995, il crimine del giorno di oggi è uno dei più abominevoli potrei dire della storia dell'uomo e che rappresenta una sorta di unione delle volontà criminali e lobbistiche di una serie di persone che purtroppo ancora oggi ma in particolare ormai 30 anni fa dominavano il mondo dello sfruttamento del lavoro minorile di cui il personaggio, questo bambino Iqbal Masì di cui parliamo oggi è diventato suo malgrado simbolo. Andiamo a vedere la scheda della giornata di oggi, stiamo parlando di Iqbal Masì, un personaggio che se non è ancora abbastanza conosciuto è necessario che lo sia, nacque in una zona e in una famiglia estremamente povera del Pakistan, Amuric, un piccolo villaggio non lontano dal capitale Laore e fin da bambino fu costretto a lavorare in una fornace e poi venduto dal padre a un venditore di tappeti e quindi a un lavoratore di tappeti, pensate per una cifra che si aggira dagli 8 ai 18 dollari, ecco qua si dice ci sono pareri discordanti, qualcosa di veramente incredibile, fu messo a lavorare dalle 10 alle 12 ore al giorno, incatenato al telaio e fortemente malnutrito al punto di riportare anche dei danni alla crescita, alle gambe, alle braccia, una vita decisamente disastrata, finché nel 1992 si unì a una manifestazione del BLLF, ovvero del Bonded Labor Liberation Front, il fronte di liberazione del lavoro organizzata da Eshanu Lacan che era il rappresentante di questo movimento con l'obiettivo di distruggere, abolire il sistema del lavoro vincolato in particolare di quello minorile, una volta ritornato poi in fabbrica dopo questa manifestazione si rifiutò di continuare subendo le percosse del padrone e addirittura vedendo il suo debito con la famiglia aumentare secondo quello che era l'idea del lavoro perso per il padrone, fu obbligato praticamente ad abbandonare il villaggio e incominciò sia a studiare che a viaggiare per l'Europa e per il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che era il lavoro minorile. Ha partecipato a diverse manifestazioni, si è recato a Stoccolma in una campagna di boicottaggio dei tappeti pakistani, così come all'Università di Boston ricevette un premio per i diritti civili appositamente creato per la sua giovane età e nel frattempo si riuscì a ottenere anche grazie al VLLF alcuni provvedimenti di chiusura di fabbriche di tappeti in Pakistan. Purtroppo il 16 aprile del 1995, la scheda fa riferimento a questo, come vedete nel villaggio di Burit che non lontano dalla Ore, si tratta del tardo pomeriggio, era in compagnia dei due cugini Fariad e Liakat e pareva doversi recare a prendere l'autobus per andare verso la capitale in cui studiava, si è allontanato invece a quanto pare in bicicletta con i due cugini e è stato colpito alle spalle da un colpo d'arma da fuoco all'interno di quella che è sembrata essere una sparatoria più casuale, da una pistola a quanto pare Makarov di fattura sovietica e le possibili sospetti sono sia un lavoratore agricolo con cui aveva batti beccato sempre per questioni politico-sociali, voi pensate comunque quello che era il livello di consapevolezza e di maturità sociopolitica di questo bambino all'età di, nel 1995, all'età di 12 anni, la possibilità è anche quella di un tossicodipendente pagato eventualmente dalla mafia dei tappeti, per eliminare un personaggio scomodo se personaggio si può così dire, un bambino di 12 anni. Chiaramente il movente, probabile vendetta per il suo operato in termini di lotta operaia sociopolitica, è abbastanza evidente anche se addirittura un sacco di associazioni per i diritti civili eccetera hanno negato che ci siano dei legami dimostrabili, rimane sempre il fatto che nessuno è mai stato arrestato né giudicato per l'omicidio di un ragazzino che sicuramente ha vissuto una vita disastrata ed è diventato l'esempio di quello che è il sfruttamento del lavoro minorile a quei tempi in particolare lì, ma come in tanti altri posti nel mondo, nel sud-est asiatico, ma in tanti tanti posti del mondo vengono veramente utilizzati come bestie da soma o da lavoro in maniera assolutamente inconcepibile. Quindi insomma veramente un qualcosa di tragico, la morte di Iqbal Masì nel 1995 è suo malgrado diventato un simbolo eccezionale della lotta al lavoro minorile con la storia che in breve ho cercato di raccontarvi in questo crimine al giorno del 16 aprile, sicuramente uno dei più toccanti, sicuramente uno dei più importanti che abbiamo trattato all'interno di questa rubrica. Io vi ricordo che questa sera andiamo in onda con Cinepatia, la prima puntata, la puntata di inaugurazione della nuova rubrica di cinema sui set cinematografici maledetti, io con l'aiuto, la collaborazione di Alessandro Ponziani in diretta e giovedì un altro salto del Macabro con la botteguccia dei sigilli BTK, Bind, Torture, Killer, assieme al pellegrino Macabro. Per oggi abbiamo finito con la pillola, ci vediamo domani come al solito con un crimine al giorno. Un bacio, ciao ciao. Grazie a tutti.